Il cazzo strino blast down Ma no, c'è un tiro 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 Se non vedo il слушato Ma no, c'è un tiro 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 Beh il fucile Cosa c'è? Bella Oh, me, ha tirato una frustata Bella Troppo Mi piace E' alto il volume No e lì è percettibile basso basso grazie chi è quello? Gigi bravo Gigi bravo aia preso guarda la fida qui si vede anche l'ordine la giù la fiumazione la fiumazione la fiumazione la fiumazione per ora la fiumazione le fiumazione scegliamo i fiumazione Grazie